In onda pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Grazie a tutti. Siamo in prima serata, qui in studio Massimo Bonella. Saluto alla regia di Fontana Freda Paolo Gavasso e altresì un saluto alle regie di Treviso e Modena con Rosario Moreno e Ugo Moreno a Modena. Ringrazio questo emittente Radio Saiuz perché gratuitamente ripete questa nostra trasmissione che nasce qui dalle frequenze in stereofonia di Radio Piper, vale a dire sui 93.8 e 88.800 Mb. Se vi ricordo i 93.8 che sono ricevibili abbastanza bene anche a Mestre Venezia, anche verso Chioggia Sottomarina. Quindi potete sintonizzarvi già quando siete sulla statale 309 Romea alle porte di Mestre e portare questo nostro segnale fino praticamente in Istria. Ecco, quindi pensate il grande raggio di ascolto di Radio Piper. Radio Piper che si rinnova praticamente tutti i giorni, vi offre sempre ottima musica, ottime trasmissioni. E quindi entriamo nel vivo di questa nostra trasmissione, Pineta Oggi e Venti nel mondo. Parleremo, potremmo dire, del Dio denaro o meglio ancora del demonio denaro perché insomma con il denaro sembra che bisogna dare precedenza a tutto. Addirittura se non c'è il denaro non si curano nemmeno le persone perché siamo arrivati anche a questi livelli. Quindi cosa sta succedendo in questo nostro pianeta? Allora, io ho voluto chiamare un nostro esperto di fiducia, lui è il dottore Giovanni Ziaolin collegato da Sandona di Piave che vedo già pronto in collegamento Skype. Lo saluto, ciao Giovanni. Ciao e buonasera a tutti. Ecco, allora ci sentiamo bene, il collegamento funziona, perfetto, allora prima domanda molto semplice. Questo denaro insomma ha la precedenza su tutto, come mai? Beh, questo è il denaro in questa società, allora il denaro esiste, è esistito ed è passato per varie società, però la funzione che ha il denaro in questa società, nella società capitalistica è completamente diverso dalla funzione che aveva nella società feudale o ancora prima nella società schiavistica. Il capitale funziona, in questa società funziona così, il denaro è il motore che fa muovere proprio perché questa società è basata sulla legge del valore. La legge del valore è messa a punto teoricamente da Carlo Marx, però ora viene ripresa dai classici, cioè da Smith e da Riccardo e si vede, lui porta, poi lui dice non sono un economista, Marx dice non sono un economista, ma sono un critico di questa società. Allora il denaro è veicolo per fare più denaro, il sistema è il modo tale per dare questa spinta a questa società basata sul fatto di far più prodotti dell'anno precedente, altrimenti si è in perdita. Io forse dirò una banalità, però è così, quindi il fatto della produzione industriale che è in espansione, può essere in espansione sempre, cioè non ha limiti, si scontra con i limiti del pianeta, con i limiti dell'habitat in cui noi viviamo e poi ne vediamo oggi ultimamente le conseguenze. Dove, scusami se ti interrompo, dove vediamo o ci fingiamo di scandalizzarci se troviamo l'imprenditore che sorride quando l'aquila va giù col terremoto o per esempio quello di Ischia che succede, dicono il colpevole è l'uomo perché non ha costruito bene. In realtà non è così, in realtà è il meccanismo della società che va rivisto perché tutto viene basato sul denaro, per cui il fatto di ricostruire di sana pianta da un terremoto rende di più e fa più profitto perché bisogna farlo subito e immediatamente che fare la manutenzione. La manutenzione per esempio è una manutenzione di un fiume, magari ci vogliono, si mette a disposizione un migliaio di Euro e magari ci vogliono 100 mila Euro all'anno soltanto per la manutenzione, vedete voi in quanti anni si andrebbe avanti. Però se li spendo subito, se lo Stato me li dà subito, io ho subito profitto, subito guadagno e poi li posso reinvestire perché il denaro fugge sempre da chi ce l'ha per far sì di raddoppiare o aumentare la quantità che hai in mano. Vuoi dire qualcosa Massimo o posso continuare? Sì, adesso arriviamo perché volevo arrivare su una situazione ben precisa, però volevo creare questa introduzione perché se in nome del denaro è permesso tutto, comincio a preoccuparmi perché iniziamo a vedere un po' che succede anche in ambito di politica estera. Tutte queste piccole nazioni come la Corea del Nord che sono armate fin sopra ai denti, voglio dire che razza di affari che ci sono, chi è che ha dato a queste piccole nazioni, a questi piccoli stati tutti questi armamenti così potenti. Insomma ecco c'è un giro di denaro pazzesco che porta e ovviamente se poi questi stati sono saturi di armi, prima o poi devono fare la guerra a fin fine, spendere per ricostruire, per ripristinare di nuovo la vendita di armi eccetera eccetera eccetera. Perché insomma da come ho capito il capitalismo dice questo, fa questo, ecco correggimi se sbaglio. No 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 è giusto, io leggevo l'altro giorno un dato, non so se è vero o meno, però se è vero è abbastanza allarmante, ti dico che in Africa per esempio, in Africa ti parlo di Medio Oriente o dell'Arabia Saudita eccetera, in Africa per esempio non ci sono fabbriche di armi, eppure c'è guerra dappertutto. Questo vuol dire che la guerra viene, non essendoci fabbriche di armi, qualcuno le porterà, qualcuno le fabbricherà, qualcuno deve anche creare la situazione perché queste armi vengano adoperate, perché venga creato le distruzioni o tutti quei disastri che poi noi ci scandalizziamo, diciamo per esempio che i profughi devono rimanere nella loro patria, aiutiamoli a casa loro e via dicendo. Non aiutare a casa loro vorrebbe dire prima non vendere le armi di sicuro, non appoggiare i governi didattoriali, però su questo nessuno lo dice mai. Quindi le armi sono fonte di guadagno, sono fonte di guadagno dappertutto. Ti voglio fare un esempio, i disastri ambientali, l'altro giorno si discuteva molto su Ischia, il terremoto di Ischia che è bastato poco per mandarla a terra e fare dei morti, per cui il colpevole è l'uomo. No, il colpevole non è l'uomo in astratto, il colpevole è il sistema che porta a far sì che attraverso il risparmio di capitale ci si guadagna di più. La funzione del denaro è cambiata, durante l'epoca romana esisteva il denaro, però le cose si facevano perché dovevano durare, perché c'era un altro sistema, un altro modo di pensare. Adesso invece una volta costruito, più presto va giù, più si ricostruisce e più ci sono soldi da subito da spendere e da mettere in circolo. Su questo mi permetterei di leggere qualcosa, ma poche frasi, proprio per non tediare, si chiama La critica del programma di Gotha, è scritto da Marx, Marx scrive nel 1875, i socialdemocratici tedeschi volevano unirsi con il Partito Comunista, Libinek e gli altri con i socialdemocratici della Sall e Mestila da un programma. Marx lo critica fermamente e attento, 1875 lo leggo con calma e Marx dice che il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza, la natura è la fonte dei valori d'uso e in questi consiste la ricchezza effettiva, non puoi accusare uno di essere un verde Marx o di 150 anni fa, non c'erano questi i problemi di oggi. altrettanto quanto il lavoro, quindi la natura è la fonte di ogni valore d'uso e questa è la vera ricchezza, altrettanto quanto il lavoro, che esso stesso, cioè il lavoro, è soltanto la manifestazione di una forza naturale, la forza lavoro umana. Quindi chi ha interesse di dire che il lavoro è la fonte di ogni ricchezza? I borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice sopranaturale, perché dalle condizioni naturali del lavoro, cioè l'uomo naturalmente lavora, crea, ne consegue che l'uomo, il quale non ha altra proprietà all'infuori della sua forza lavoro, deve essere in tutte le condizioni di società e di civiltà lo schiavo di questi uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro. Egli può, cioè quindi l'operaio, lavorare solo col loro permesso e quindi può vivere solo con il loro permesso. Cioè, questa è una frase fondamentale, cioè noi dobbiamo, noi ultimi, chi crea beni o crea servizi che poi sono vendibili, dove chi li vende fa il profitto, fa il guadagno, ha interesse di sfruttare questo lavoro, insomma, e dire che il lavoro è la fonte di ogni ricchezza. Però loro sono i proprietari dei mezzi di produzione. Cioè, anche noi che andiamo a chiedere un posto di lavoro quando andiamo, non è vero che è uno scambio alla pari, cioè un negozio giuridico, come si dice, no, tu vieni a lavorare per questo. Per chi non ha mezzi di produzione, cioè quindi terra e capitale, è una costrizione. Ecco il fatto, perché altrimenti non puoi vivere. Perché se non hai, non vai a vendere la tua forza lavoro, non puoi vivere perché in cambio non hai il denaro. Ecco, tutto si gira attorno a questo, cioè al denaro che fugge dalle mani di chi le ha, in questo caso il proprietario, il capitalista, lo rinveste per avere ancora più denaro. Noi invece che siamo forza lavoro, che viviamo nel nostro salario, tesaurizziamo, cioè risparmiamo perché il risparmio ci permette di, non so, comprare quegli strumenti di casa che magari si rovinano e quindi c'è un'usura, bisogna cambiarli, eccetera. Invece lui no, lui fa il capitalista, che poi anche qua il vero capitalista non esiste più, è quello che stacca le cedole, perché in realtà ha delegato ad amministratori delegati che facciano le sue funzioni in modo tale che a lui interessa semplicemente avere gli utili e i profitti. Per esempio Marchionne è un amministratore delegato, non è il proprietario della Fiat. Anche Lenin per esempio, che è una società pubblica, c'è nel suo consiglio di amministrazione, c'è il 33% che è dello Stato, ma ci sono anche gli altri capitalisti che delegano, l'amministratore delegato dell'ENI, che non so chi sia, l'amministratore delegato dell'ENI, che deve fare i propri interessi. Infatti l'amministratore delegato dell'ENI, come le ferrovie che sono privatizzate, ha l'obiettivo di dare gli utili, perché dice altrimenti gli azionisti se ne vandano. Ecco, l'obiettivo è quello, cioè di avere più soldi, non è quello di creare una produzione sociale, dove i mezzi di produzione siano sociali, e si decida collettivamente, basata quindi su una proprietà comune di mezzi di produzione, i produttori, saremo i lavoratori, gli operai, non scambiano i loro prodotti, perché è collettiva, e decidono il cosa e come produrre, in armonia con l'ambiente, come diceva prima Marx, che è il primo, la prima ricchezza è la natura, e noi come umani siamo natura, non veniamo fuori dalla natura, mangiamo natura, perché in fondo quando mangiamo insalata, mangiamo natura, e quindi però la natura per qualcuno è diventata soltanto il veicolo per fare i profitti e non rispettarla assolutamente. Ecco, quindi qui Giovanni Zionlin, si va in, come dire, in conflitto praticamente, in conflitto con la vita, in conflitto con il pianeta, in conflitto con la natura, siamo in rotta di collisione, cioè rischiamo un'autodistruzione. Io intanto, scusa, devo aprire una parentesi per ricordare, per chi si fosse sintonizzato adesso, questa è la trasmissione pianeta oggi 20 nel mondo, che viene onda qui da Radio Piper, sulle frequenze dei 93,8 e 88,800 MHz in sterofonia per tutto il Triveneto. Prima non ti ho interrotto, perché stavi appunto spiegando in maniera molto esauriente un concetto che è davvero fondamentale. Ti chiedo, abbiamo tre minuti, ti chiedo se in sintesi ci puoi spiegare un po' che cosa è successo alla Ryanair? Perché anche qui c'è il denaro, magari forse il gelato, stavo spiegando, diciamo che in mezzo c'è il denaro, insomma. Beh, certo, il denaro, quindi in tre minuti, cercherò di essere sintetico, mentre tutti parlano dei diritti dei viaggiatori ad essere risarciti, perché Ryanair ha detto che supprimerà una certa quantità di voli e quindi quell'avrà coinvolti una quantità considerevole anche di viaggiatori, allora tutti dicono ai viaggiatori bisogna garantire il diritto alla mobilità. Vabbè, quando, ti faccio un esempio, quando i mezzi pubblici non funzionano, non li vedo tanto scatenanti questi parlamentari, a direi, il diritto alla mobilità, si muovono soltanto quando c'è uno sciopero o qualcosa che può dar fastidio e dare bastonate sempre a chi lavora. Ryanair è successo così, che si sono accorti No, mi è piaciuto questo, lo condivido, prego Giovanni. Si sono accorti che i lavoratori, quindi i piloti, gli steward, eccetera, che poi fra l'altro non hanno nemmeno contratto, sono assunti a partite IVA, sono costretti a vendere i gratta e i vinci sugli aerei, se non li vendi almeno uno, ogni volo, uno o due, adesso leggevo sul giornale, va a influire sul tuo rendimento, e quindi il suo tocca come dipendente steward, va a influire sul tuo rendimento e quindi sulla tua paga. Sono costretti a fare quello con un salario bassissimo e si sono accorti che anche i piloti e gli steward hanno bisogno delle ferie, di riposare. Ma questi che parlano del diritto alla mobilità si pongono il problema che avere un pilota stressato dal lavoro è anche un pericolo per loro. Di queste cose non le ho sentite, ho sentito che tutti fra l'altro sono un po' contenti perché si possono beccare delle multe, quindi a loro ritornano dei soldi, però un pilota stressato, un pilota che non fa riposo da tanto tempo, che pericolo può portarmi? Ecco, io vorrei sentire questo, ne abbiamo sentiti poche voci, magari dei piloti fra virgolette sono pagati meno i piloti di altre compagnie, però sono quelli pagati di più di altri dipendenti di Radian Air come steward e altri, cioè in pratica chi fa il lavoro manuale di solito è sempre quello che è pagato meno, però è il lavoro manuale che ci fa andare avanti, perché spostare le valigie o altre cose, qualcuno le deve fare materialmente, non si spostano mica da soli, è vero che ci sono come si dice gli scambiatori, le macchine, eccetera, però se non c'è qualcuno che ti sposta la valigia tu non vai da nessuna parte, come se non c'è nessuno che guida l'aereo tu non vai da nessuna parte, come? Ti dico che può sembrare una banalità, però i parlamentari o chi parla non ci difende ma qui è un altro paragrafo perché come i lavoratori dovremmo difenderci noi, organizzarsi noi, cioè ripartire da zero su questo, però nessuno si pone mai il problema, scusa un attimo, tu le scarpe le hai addosso, tu mangi il panino alla buvette, ma chi ti ha fatto le scarpe? Chi ti ha fatto il vestito? Chi ti ha fatto la macchina? Ma io me la compro con i soldi che mi dà il Parlamento, perfetto, ma quei soldi da chi vengono? perché materialmente tu hai bisogno di vestire, di abitare, di mangiare e qualcuno lo deve fare e quei qualcuno sono quelli che lo fai andare in pensione a 70 anni, che riduci sempre di più la pensione come salario, sono quelli più bistrattati, i vecchi che una volta si chiamavano schiavi adesso siamo salariati, però è lo stesso principio, cioè la ricchezza viene fuori dal mondo del lavoro e dei servizi vendibili ed è il plus lavoro, cioè il lavoro che noi facciamo in più di quello che sarebbe sufficiente per mantenere noi e la nostra famiglia, è quel tutto in più che ci si sta sempre più sottraendo e sempre più levando che se lo pappano gli altri. Ultima cosa, non so se sforo, ma però qui sul gazzettino del 28 luglio di quest'anno veniva fuori se ce la fai in 30 secondi. Sì, dicevano guadagni più bassi di 20 anni fa, uno studio del Fondo Monetario Internazionale dice che non se la passano meglio che dice la lenta crescita dell'Italia così come i persistenti effetti della crisi fanno pagare il prezzo più alto ai giovani fra i quali il tasso di occupazione è il 35%, non se la passano meglio i lavoratori che osservano gli esperti di Washington guadagnano in media meno di 20 anni fa con i salari e la ricchezza della popolazione in età lavorativa scesi sotto i livelli del 1995. Ecco, io vorrei chiudere con questo dato e quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima, si sottraggono sempre più soldi a noi per pagare le banche, i debiti alle banche, per pagare gli scandali per pagare i vari scandali perché tutto gira attorno al denaro e niente più gira attorno alla specie umana e la sua sopravvivenza su questo pianeta. Noi dobbiamo riportare al centro questa idea, al centro l'uomo e la produzione per l'uomo in armonia con l'ambiente. Perfetto, un ragionamento che non fa una piega come si suol dire, anzi ti ringrazio anche per la capacità di sintesi perché non è mica semplice spiegare tutto questo. Ringraziamo dunque Giovanni Sionolin esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva multimediale, ringrazio anche le rispettive regie di Fontana Freda Paolo Gavasso e Rosario Moreno Ugo Moreno per quanto riguarda Radio Science che ripete questa nostra trasmissione per il loro network, Radio Piper 93.8 8800 MHz per tutto il Triveneto che vi saluta e vi dà appuntamento alla nostra programmazione della rete che prosegue in non-stop music da Massimo Bonella e l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi eventi nel mondo a cura di Massimo Bonella in onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. di Massimo Bonella di Massimo Bonella Grazie a tutti.